Carina Cascella, ex opinionista di Pomeriggio 5 e nota per il suo legame con Barbara D'Urso. Ha espresso chiaramente la sua opinione sulla nuova edizione del programma condotta da Mirta Merlino al posto di Barbara. Carina ha sottolineato la professionalità della nuova conduttrice ma ha criticato il fatto che il programma non presenta alcuna differenza sostanziale rispetto ai programmi di Rete 4, concentrandosi principalmente su cronaca nera e politica. Ha suggerito che il pubblico a casa avrebbe bisogno di intrattenimento e sorrisi occasionali. Carina ha respinto anche l'accusa di partecipare ai programmi solo per cercare visibilità, sottolineando che ha rifiutato diverse volte inviti a reality show. Inoltre, ha difeso Barbara D'Urso, considerando la parte della famiglia e criticando l'etichetta di TV trash, sostenendo che anche programmi come Il Grande Fratello possono essere considerati trash, preferendo piuttosto programmi leggeri di intrattenimento.